Ok, Leo. Tu pitturerai questa parete mentre io finisco il dialetto. Ti ricordi tutti i passaggi di cui abbiamo parlato? Certamente, Bob. Non ancora, Leo. Qual è il problema? Prima va protetto il pavimento dalle gocce di vernice con un telo e messo del nastro adesivo sul vetro. Oh, giusto. Giusto. Dimenticavo questo passaggio. Lo faccio subito. Ecco qua, trottola. Sei pronta? Non vedo l'ora di mescolare tutto. Grazie, trottola. Leo! Aspetta un secondo. Che ho dimenticato ora? Devi stuccare tutte le crepe del muro prima di stendere la pittura. Oh, sì. Ti mettevo alla prova, Bob. Lo faccio subito. Splendido calcestruzzo, trottola. Grazie, Bob. Ha bisogno di essere livellato. Un attimo, Leo! Oh, oh. Ora che c'è? Hai messo troppa vernice sul rullo. Finirà per sgocciolare. Oh, ok. Ne tiro via un po'. Wow! È liscio liscio, Bob. È perfetto. Grazie, trottola. Penso di meritare un frullato, non credi? Bob, che ne dici allora della mia parete? Un lavoro eccellente, Leo. Non hai dimenticato neanche un passaggio. Oh, fantastico. Penso di meritare anch'io un frullato. Non credi? Resta esattamente dove sei. Non fare un altro passo. Giusto. Neanche un passo. Sì, ne ha fatti già abbastanza, mi pare. Resta lì fermo, immobile. Dove stai andando? Dentro, a prendere il mio frullato.